Potenziato il tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti, lo ha deciso l'assessora regionale alla salute Giovanna Volo, che ha firmato il decreto con cui si dà nuovo impulso a questa realtà istituita nel 2019, che svolgerà un ruolo fondamentale soprattutto nel contrasto al gioco d'azzarto patologico. Un intervento che risponde alle indicazioni previste dai piani nazionali e regionali della prevenzione 2020-2025. Numerose evidenze scientifiche, commenta l'assessora Volo, hanno dimostrato che le nuove tecnologie possono comportare, se non usate nella maniera corretta, dipendenze e disturbi della personalità in fasce vulnerabili della popolazione. Per questo, aggiungo, lavoreremo in maniera organica per educare e sensibilizzare i soggetti più fragili e in particolare i più giovani. Tra le attività previste, infatti, c'è anche il rafforzamento della collaborazione tra le aziende sanitarie e l'ufficio scolastico regionale per organizzare una serie di incontri con esperti del settore per gli studenti di tutte le province della Sicilia. Il coordinamento dei lavori del tavolo è affidato al dirigente generale del DASOE. Risale al 2020 l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge sulla prevenzione e trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, un'iniziativa voluta dalla parlamentare Margherita Larocca Ruvolo, che ha previsto proprio l'istituzione dell'osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo per meglio conoscere e monitorare un fenomeno sempre più diffuso. La legge approvata dall'ARS, oltre ad un impegno sul contrasto al gioco d'azzardo da parte delle ASP, ha chiamato in causa anche i comuni. Ha stabilito il divieto di apertura di centri di scommesse e spazi per il gioco, nonché la nuova installazione di apparecchi, in prossimità di luoghi sensibili, come scuole, parrocchie, caserme, strutture sanitarie, centri di aggregazione per giovani e anziani. Grazie a tutti.